buonasera benvenuti a otto e mezzo buonasera benvenuto mario monti senatore a vita ex presidente del consiglio buonasera bentornato genrico caro figlio scrittore buonasera ben tornato pietrangelo buttafuoco giornalista allora come avete sentito come era previsto l'europa bocciato la nostra manovra economica e salvini ha detto che adesso dopo la lettera della commissione europea si aspetta la lettera di babbo natale ma al di là di queste guasconate che cosa rischia in concreto l'italia subito dopo la pubblicità senatore monti dopo la bocciatura della nostra manovra economica da parte della commissione europea che cosa rischia concretamente l'italia una prima cosa che non è un rischio ma è una certezza da oggi è la dichiarazione pubblica e ufficiale della commissione europea che la politica economica del governo italiano è su una rotta non destinata a portare a una riduzione del debito pubblico e quello che forse più preoccupa neppure destinata a fare crescere maggiormente l'economia quindi è una certificazione con grande ufficialità di un organo che gli altri paesi riconoscono come piuttosto autorevole che si aggiunge a tantissime posizioni prese da istituti pubblici e privati italiani ed esteri quindi se vogliamo siamo arrivati a quello che nel calcio sarebbe italia contro il resto del mondo anzi governo italiano contro coloro che in italia si presume capiscano qualcosa di economia e il resto del mondo Senatore Monti ma perché lo spread? Comunque questa diciamo è la certezza e quindi agli occhi degli investitori italiani o stranieri è una dichiarazione negativa che non deve necessariamente riflettersi nell'immediato in spread o altre cose però vediamo che già alle emissioni dei buoni del tesoro poliennali dedicate agli italiani la domanda è stata molto molto limitata e comunque i rischi lei chiede i rischi giustamente i rischi sono che ci siano all'aprirsi della procedura di infrazione per disavanzo eccessivo ma questa volta ed è il primo caso nella storia europea motivata con il debito eccessivo ci possano essere delle sanzioni e comunque un corsetto piuttosto rigido per la politica economica italiana e quindi purtroppo coloro che si dicono sovranisti stanno cominciando nel concreto non a rafforzare ma a indebolire cedendone pezzi all'Europa la sovranità italiana Allora interpello subito caro figlio e butta fuoco le previsioni e la situazione descrittaci dal senatore Monti non è molto allettante per il nostro paese eppure Salvini e Di Maio continuano tra battute chiamiamole ironiche a certezze come il debito calerà con questa manovra l'economia crescerà all'1,5% eccetera eccetera ma arrivare a questo scontro frontale con l'Europa alla fine è quello che volevano Salvini e Di Maio? Beh io credo che questo sia abbastanza chiaro era chiaro prima e ancora più chiaro adesso si tratta di gente che lancia una macchina a tutta velocità verso un ostacolo pensando di essere capace chissà come di scavalcarlo ovviamente gli ostacoli producono gli incidenti io tornerei un attimo sulle battute con le quali questi signori commentano l'azione europea o la deridono o credono di deriderla e questi signori intendiamo Salvini e Di Maio? si l'espressione non era di grande simpatia ha accolto benissimo si no perché siccome parlano tutti di questi signori allora io chiedo sempre di indicare chi sono per nome e cognome tendo a prendere con una certa circospezione quando sentiamo dire per esempio dal ministro della propaganda che lui delle lettere dell'Europa alla casella postale piena con una garbatissima allusione a qualcos'altro di pieno Salvini evidentemente il ministro della propaganda per me è Salvini do questa indicazione siccome come ministro dell'interno non stiamo vedendo alcun tipo di atto concreto di contrasto alla grande criminalità per me è quello che sa fare bene la propaganda quando noi sentiamo Salvini è un dettaglio ma che ci dice di come quanto tutti siano assuefatti a sentire violentare la lingua i significati e così via adesso arriverà la letterina di Babbo Natale nessuno ha pensato al fatto che Babbo Natale non scrive le letterine semmai le riceve è una sciocchezza? sì ma è il segno di come si sparino battute a raffica con totale sprezzo dei significati delle parole ma soprattutto poi dei contenuti dei cittadini e del destino di questo paese buttafuoco sei d'accordo perché Salvini dice anche che l'Europa deve rispettare il popolo italiano quando per la verità siamo noi che non stiamo rispettando le regole che abbiamo concordato con gli altri partner europei andando ai fatti il fatto di oggi dimostra e non è una battuta ma uno schema questo sistema cioè colpirne uno colpirne una l'Italia per educarli tutti tutti i componenti dell'Unione Europea è un atto concreto duro e quando si chiede di rispettare il popolo italiano prova a immaginare quale possa essere la conseguenza e cioè un esito di volontà sovrana una volontà politica che corrisponde a certe conseguenze nel senso che se ci pensiamo cosa stanno facendo i due partiti dell'attuale governo stanno mantenendo quello che avevano detto durante la campagna elettorale cioè porre una questione sul piatto piuttosto dura e cioè mettere a confronto l'unica dicotomia vera che esiste ormai nella realtà che vede contrapporre la politica ai mercati e poi mi permetto meno male che ci sono le battute perché il clima è così forte è così storicamente impegnativo è così posso dire rivoluzionario che quantomeno ci si stempera perché vedete la cosa che mi colpisce è anche il carico di violenza che c'è altrove la tensione che per esempio c'è in Francia dove comunque c'è un super presidente meraviglioso competente come mai se ne sono trovati e invece l'Italia e l'Inghilterra che poi sono i due soggetti chiave di questo gioco geopolitico ancora più che politico beh per fortuna ci sono le battute servono a stemperare il clima pericoloso è d'accordo senatore Monti quando Salvini appunto replica la lettera della commissione di Bruxelles adesso aspetto la letterina di Babbo Natale al di là del fatto che ragione caro figlio per la verità si scrivono a Babbo Natale le letterine affinché esaudisca dei nostri desideri ma insomma è d'accordo con quello che hanno detto i miei interlocutori Buttafuoco dice anche che quello che è stato fatto oggi è stato colpirne uno cioè l'Italia per educare tutti gli altri e che in fondo questo governo con questa manovra sta solo mantenendo le promesse elettorali No io non sono d'accordo su questo mi sembra un'immagine bella ma non realistica non è qui uno scontro come ha detto Pietrangelo Buttafuoco tra la politica e il mercato perché da una parte abbiamo la politica di un governo italiano giovane votatissimo per ora palesemente immaturo e dall'altra parte abbiamo la politica di 18 stati altri stati membri dell'Eurozona oltre alla Commissione Europea e in quei 18 ci sono paesi che hanno governi e maggioranze di sinistra di destra di centro populiste che hanno sofferto per l'austerità che c'era in passato ma che non c'è più e che non ci sarà neanche con questa procedura quindi è un mondo politico molto eterogeneo certamente come accennavo prima questa messa in evidenza del contenuto di una politica economica italiana che tutti giudicano non adeguata ai gravi problemi del paese e anche l'evidenza dell'isolamento in cui l'Italia si è messa potranno avere anche effetti negativi sul mercato concludo dicendo che siamo veramente nel paradosso perché io ricordo quando proprio al momento di lasciare il mio breve governo nella primavera del 2013 iniziato nel novembre 2011 riuscimmo con il buon lavoro degli italiani a far chiudere la procedura di infrazione allora era per disavanzo eccessivo aperta nel 2009 per l'Italia e tanti altri paesi noi fumo il primo paese per cui venne chiusa e questi ultimi anni sono stati anni molto facili dal punto di vista economico generale perché abbiamo avuto il quantitative easing di Draghi abbiamo avuto una economia europea che andava piuttosto bene tranne le ultime battute abbiamo avuto la commissione europea che oggi viene presentata come cattiva e mostruosa in Europa è la commissione europea più lasca più flessibile e più permissiva sulle questioni economiche e finanziarie che ci si è avvistata ebbene persino questa commissione europea ecco Monti lei ha ricordato il suo governo Gianrico Carofiglio oggi Bersani in un'intervista dice che questo governo alla fine ci porterà a un nuovo Monti quindi a nuove politiche di austerità lei pensa che sia giusto pensare questo? ho un sistema infallibile per non sbagliare le previsioni e tendo cioè a non farle e quindi non so se questo governo e questa azione è certamente scriteriata non trovo una parola diversa che non sia ancora più forte per descriverla sta mettendo a rischio un sacco di cose a cominciare dal futuro di un sacco di gente dei giovani in particolare perché quello che ha detto il presidente Monti è diciamo incontrovertibile questo è della serie fai la manovra oggi ma paghi dopo paghi negli anni successivi perché nel momento in cui certe misure vengono adottate queste misure verranno scontate da chi governerà nei prossimi anni non lo so se ci vorrà un nuovo intervento d'emergenza ovviamente io mi auguro che non sia necessario mi auguro che sia tutto un grande blef e che a un certo punto chi ha una testa pensante nel governo perché c'è qualcuno una testa pensante nel senso di avere la responsabilità di un paese in difficoltà sia in grado di bloccare questa azione scriteriata certo è che se si sfascia tutto quanto qualcuno che poi lo ripara ci vorrà butta fuoco un nuovo Monti per l'Italia sarebbe comunque meglio di Salvini e Di Maio se diciamo questa manovra e anche questi rapporti così negativi dipende da una decisione se si decide di prescindere dalla volontà elettorale dalla volontà popolare quindi dall'atto politico allora ci sarà un nuovo Monti ma resta il fatto in tutto questo contesto che i criteriati di prima comunque ci hanno portato a questa situazione questa è la vera cosa su cui indagare su cui capire voglio dire se per esempio ci troviamo di fronte alla sfida con l'Europa riguardo al debito credo che sia questo ascoltando prima il professore Monti nel suo primo intervento spiegava che questo è il tema allora se si tratta di debito è ovvio che è qualcosa che devono spiegare i criteriati più che gli scriteriati perché è una somma che porta tutti i decenni che hanno accompagnato questa situazione è un po' come quando l'amministrazione di una città fallisce non è mai colpa del nuovo sindaco il nuovo sindaco eredita un problema si tratta adesso di cominciare a ragionare e ad essere chiari anche nella serenità del dibattito a cercare di capire se accettare ancora le regole della politica oppure affidarsi definitivamente a quello che impongono i mercati con tutto esprimo un'opinione non lo so comunque una costatazione noi ci siamo impoveriti da gran tempo l'Italia conosce la scomparsa del ceto medio da politiche che affondano nel passato che non sono certo responsabilità né del Movimento 5 Stelle né tantomeno di Salvini che paradossalmente non è tanto il leader del più vecchio partito adesso esistente ha fatto una cosa nuova che non c'entra niente con quello che era la Lega di Bossi veramente una battuta al volo insomma parlare di volontà del popolo di governo votato dal popolo è in questo caso nella migliore dell'opportunità un gioco di parole perché noi abbiamo due partiti che si sono fieramente combattuti durante la campagna elettorale che poi seguendo le regole del sistema proporzionale promettendo che mai si sarebbero alleati sono due partiti che andavano separatamente quindi chi ha votato Lega voleva qualcosa e chi ha votato i 5 Stelle voleva qualcosa di molto diverso dire oggi con tutto il rispetto per le opinioni di tutti che la volontà della maggioranza degli italiani era che si facesse questo governo e dire una cosa che non corrisponde alla verità quantomeno dicevano la stessa cosa sull'Europa dicevano la stessa cosa però voglio brevemente lo sai cosa si è saldato due blocchi sociali due blocchi sociali che possono essere opposti ma si sono rivelati complementari questa è un'interpretazione i fatti sono che ci sono state delle elezioni e questi due partiti e i fatti sono che hanno consenso fammi finire questo è un altro discorso non fare torto al tuo acume di interprete mettendo insieme le patate con le mele sono due cose scusami patate e mele sono i mercati sono due cose diverse perché loro sono andati separatamente alle elezioni proponendo programmi diversi ora sono uniti il fatto che siano uniti non sposta il fatto che chi ha votato ha votato per due cose diverse quindi non si può invocare la volontà popolare per legittimare questo governo fine allora Mario Montezo lei ha seguito questo dibattito qui in studio voglio sapere varie cose da lei uno cosa ne pensa due se lei vede un nuovo Monti all'orizzonte tre i criteriati quindi il contrario di Salvini e di Maio che sarebbero gli scriteriati dovrebbero spiegare come si è arrivati a questa situazione di oggi con questo disastroso debito e la terza questione devono dettare legge la politica o i mercati è un bel menù che mi propone allora cosa ne penso del dibattito interessante che ho ascoltato e purtroppo non visto ma io penso che sia la politica che debba governare l'andamento di una società penso anche che la politica sia di qualità tanto migliore quanto più responsabile è la popolazione di un paese quanto più ha un grado abbastanza buono di istruzione e quanto più si rende conto delle conseguenze che ci sono tra atti di oggi e conseguenze di domani come si è e quindi mi permetto di sentire con Pietrangelo buttafuoco le regole della politica secondo me non si riducono al so bene che quelle giustamente presidiano alla formazione della Camera del Senato ma è ben povera quella politica che accetta come normalità la acquisizione dei voti attraverso promesse di denaro dello Stato se fosse fatto sul piano individuale questo sarebbe un comportamento sancito dal codice penale se fatto invece per migliaia di miliardi questo diventa regola della politica io mi permetto di sentire come si è formato il grande debito pubblico italiano lo sappiamo criteriati o scriteriati lo sappiamo bene si è formato soprattutto perché per decenni la classe politica dei diversi partiti era molto riluttante a dire qualsiasi no alle istanze di questa o quella categoria sociale o economica prevalevano i sì e questo faceva sì che le spese pubbliche eccedevano di molto le tasse creando molto disavanzo e molto debito e come mai non c'era nessuno che diceva di no a questa politica perché non c'erano ancora i penalizzati da questa politica che sono i giovani nostri di oggi che non trovano lavoro perché i politici del passato hanno troppo largheggiato ora quando mi riferivo prima al 2013 quando si è posto rimedio alla situazione molto molto critica in cui il tesoro lo stato italiano rischiava di andare in insolvenza e c'era una buona situazione per fare finalmente politiche di crescita e politiche serie purtroppo è prevalsa ancora più che in passato la voglia dei politici di compiacere gli elettori dando soldi non solo chiudendo un occhio sull'evasione fiscale ma proprio dando soldi penso agli 80 euro e via dicendo e i due partiti che governano oggi molto diversi tra loro hanno però portato le promesse a livelli chiaramente irrealistici allora non penso che sia necessariamente una linea di condotta di morale politica ineccepibile dire siccome ho promesso l'impossibile devo dare l'impossibile e non venga nessuno a rompermi le scatole perché chi pagheranno il versamento dell'impossibile saranno i giovani italiani di domani e di dopo domani paradossalmente l'Europa li tutela meglio meglio di questi governi criteriati come li chiamano alcuni e criteriati come li chiamano altri voglio sapere lo vede un monti all'orizzonte ce ne sarebbe bisogno i monti ce n'è solo uno ma speriamo proprio di no speriamo proprio di no però sono sono le incapacità o le non volontà della politica che portano questo in fondo nel 2011 c'erano state difficoltà politiche e personali del presidente del consiglio Berlusconi difficoltà politiche nella sua maggioranza quando la Lega l'ha abbandonato e ci sono state determinate conseguenze finanziarie e nessuno dei partiti aveva diciamo la volontà di diventare impopolare prendendo delle misure oggi non vorrei che andassimo appunto a farci noi una austerità una austerità made in Italy non perché la linea che l'Europa ci suggerisce o ci imporrà sia una linea di grande austerità ma perché se andiamo a sbattere contro ostacoli finanziari gravi allora poi indubbiamente occorrerà qualcuno che debba introdurre l'austerità ma poi spero che ci sia modo dottoressa Gruber per dire una parola su come questo non sia solo un grosso problema di politica economica ma mette in luce un fallimento spero rimediabile ma più generale di questo governo ne parliamo subito una domanda al presidente Monti cosa le ha impedito di fare quelle cose necessarie che si dovevano fare cioè lei non si sente la causa di un effetto la causa quindi dell'effetto degli scriteriati oggi al governo rapido ma neanche un po' devo dire sì sì rapido io penso che abbiamo fatto le cose che dovevano strettamente essere fatte per evitare che lo stato italiano diventasse insolvente lei forse ha in mente il caso della Grecia ebbene la mia convinzione è che i due partiti di oggi che non considero scriteriati ma molto immaturi benché moltissimo votati siano prigionieri della narrativa che si sono inventati di fronte a quelle politiche loro sono i due unici partiti la Lega che era in Parlamento ma si è dissociata dalla maggioranza di unità nazionale che ci ha permesso di salvare l'Italia il 5 stelle che non erano ancora in Parlamento si sono inventati una narrativa che ha fatto conquistare a loro milioni di voti e che passa per le cose che abbiamo visto nei social media cioè è tutto dettato dal grande capitalismo internazionale si sono penalizzati gli italiani per favorire i tedeschi e via dicendo oggi poveretti hanno il potere e il dovere di governare ma finché non riconosceranno che hanno riempito il paese di fantasie false non avranno i pensieri giusti per governare cosa che io mi auguro che avvenga presto però uno scenario che si può produrre questo che presto impareranno a governare caro figlio perché Monte ricordava appunto quando Berlusconi a un certo punto non ebbe più la maggioranza nel 2011 perché la Lega se ne andò allora scome buttafuoco ha scritto che quello di Salvini Di Maio è l'unico governo possibile oggi lei è d'accordo? io non credo che sia l'unico governo possibile credo che come ha detto il presidente Monti sia un governo che ha prodotto un'azione di governo per ora proclami ma temo molto presto anche azioni concrete che è il risultato di due cumuli di enormi promesse che già da sole sarebbero state insostenibili già solo se avessero vinto i 5 stelle e avessero dovuto sviluppare e mantenere le promesse sul reddito di cittadinanza e altre cose avrebbero praticato un'azione incompatibile con i conti pubblici qui non c'entrano i mercati c'entra la ragioneria c'entrano le addizioni c'entra la partita doppia scusate il riferimento e lo stesso vale per la Lega messe insieme queste due questi due enormi aggregati di promesse demagogiche producono una miscela esplosiva che rischia di far saltare tutto quanto io non credo che loro torneranno indietro perché tutta questa partita ce lo stiamo dimenticando adesso ma si gioca nella prospettiva delle elezioni europee a vedere chi resiste di più a spararla più grossa ogni giorno più grossa in attesa di questo duello all'ok corral delle elezioni europee tutti sanno che dopo se ne andranno ognuno per la propria strada però questo è un modo scriteriato oggi le due parole sono scriteriato scriteriato senatore Monti lei ha detto vorrei dire qualcosa sul fallimento generale cosa voleva dire? Sì purtroppo questo episodio di oggi che fa seguito a vari piccoli fallimenti di questo governo mostra che c'è una incapacità di vedere con una certa chiarezza e di prendere decisioni in tre comparti che non sono marginali che sono la politica economica la politica europea e più in generale la politica estera e se ci pensiamo era ben difficile in pochi mesi partendo da una situazione economica non ideale ma abbastanza buona rispetto ad altri momenti e in momento di relativa cioè di grande maggioranza era ben difficile riuscire proprio a sbagliarle tutte cioè a tentare un'alleanza con i paesi di Visegrad vedendo che poi hanno diciamo hanno deluso profondamente le aspettative del governo italiano sulle questioni della migrazione e poi scoprendo ma molta gente lo sapeva già che in materia di finanza pubblica per esempio la Slovacchia è più austera della Germania e poi riuscire a mettersi contro tutti i paesi dell'eurodorio io frequento l'Europa seguo l'Europa da moltissimi anni non ho mai visto una situazione così in fondo i nostri progenitori latini usavano la frase che hanno saputo tradurre in impero divide e timpera i loro attuali lontani successori esaltatissimi in una bolla di fantasia che vede Grillo Casaleggio e altri come grandi miti mondiali ma che sono piccole parti di un paese di provincia sono riusciti a fare non divide e timpera ma unisci gli altri in modo che ti mettano sotto e questo è una cosa che deve veramente far pensare ma in fondo è anche perché non c'è ordine logico nel governo Monti qual è la cosa peggiore che può capitare all'Italia in questo momento di non fare un minimo di autocritica e di pensare che perché si hanno milioni e milioni di voti questo significhi legittimazione a non tenere conto della realtà allora vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro perché abbiamo parlato e parliamo sempre di populismi populismo e ieri abbiamo avuto un piccolo esempio della comunicazione politica nell'era del populismo guardate sembravano turisti sul set di Suburra alla ricerca del selfie perfetto scrive Francesco Bay sulla stampa a proposito della passerella allestita ieri dai nostri governanti nel rione romano del Quadraro a beneficio dei telegiornali e dei social l'occasione era lo sgombero di otto villette abusive occupate dalla famiglia Casamonica in effetti non è consueto che il sindaco della capitale ma soprattutto il ministro dell'interno e il presidente del consiglio della settima potenza industriale del mondo interrompano le loro normali occupazioni per assistere a uno sfratto tanto più in giornate complicate per l'Italia come queste pare che la corsa di Salvini a oscurare raggi e di Conte a oscurare Salvini nasca da rigorose strategie comunicative che non prevedono assenteismo quando si tratta di sicurezza e ordine pubblico temi di grande impatto emotivo ed elettorale poco importa che lo sgombero dei Casamonica sia un rito che a Roma si ripete da anni sempre uguale a se stesso dicono le cronache che il 20 aprile 2010 all'alba furono sgomberate e demolite tre ville dei Casamonica affrascati il 24 maggio dello stesso anno in zona romanina toccò a un'area di 4000 metri sottoposta a vincolo archeologico su cui erano sorti 25 monolocali il 23 gennaio 2012 nello stesso quartiere ci fu l'intervento di 300 tra carabinieri e poliziotti per sequestrare 16 immobili e 36 fuori serie il 18 giugno del 2013 per un'analoga operazione in un'altra zona della città furono impiegati anche due elicotteri proprietà dei Casamonica furono sequestrate anche nel marzo 2015 nell'aprile 2016 e nel novembre 2017 in nessuna di queste circostanze sulla scena dello sfratto si affacciarono membri del governo ma erano stagioni pre-populiste Senatore Monti lei da Presidente del Consiglio non è mai andato allo sgombero di case abusive o di case occupate? No devo dire pur avendo grande difficoltà a riempire il mio tempo in quell'anno e pochi mesi di governo questa idea non mi è mai venuta anche se dall'ottimo Paolo Pagliaro ho appreso adesso che una di queste operazioni 23 gennaio 2012 è avvenuta mentre io ero a Palazzo Chigi quindi chiedo venia oggi per allora per la grande disattenzione soprattutto mediatica che ho avuto vede che c'è sempre qualcosa da imparare soprattutto sul fronte della nuova comunicazione politica grazie presidente grazie grazie di essere stato con noi grazie Gianrico caro figlio grazie Petrangelo buttafuoco grazie spettatrici spettatori vi lascio Andrea Purgatorio al suo Atlantide che sarà sulla terra dei fuochi e avrà tra le altre cose una testimonianza un'intervista in esclusiva del geologo Mario Tozzi insieme alle testimonianze terribili di alcuni abitanti vittime dell'inquinamento e noi come sempre ci vediamo domani 8 e mezzo arrivederci grazie